salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco siamo ancora su fan fantasy 7 ver crisis e come promesso oggi facciamo un riepilogo di questo primo periodo di fan fantasy 7 ver crisis e aggiorniamo in questo caso la mia visione dei personaggi consigliandovi adesso i migliori setup che secondo me ovviamente bisognerebbe utilizzare per avere un cloud competitivo o per meglio dire un cloud che possa effettivamente essere un punto di riferimento cloud ovviamente è il personaggio che probabilmente la maggior parte dei giocatori inizialmente avrà magari pompato un po di più dato che ha avuto la possibilità di avere già una anzi ben due addirittura armi uniche all'interno del gioco due skin uniche all'interno del gioco ed è sicuramente il personaggio più utilizzato nella prima fase di tutto il gioco ecco perché oggi cominciamo esattamente da cloud cloud come vi ho già detto nel mio precedente video quello di analisi dei personaggi che vi lascerò qui sopra nelle schede in alto a destra fondamentalmente è uno se non il miglior dps fisico barra elettrico che abbiamo all'interno del gioco questo proprio perché grazie al suo setup e grazie alla sua murasame che è stata la prima arma ad essere rilasciata all'interno del gioco ha permesso a cloud di scusatemi ha permesso a cloud praticamente di occupare un ruolo ben preciso nella community e nelle formazioni di gioco ed è per questo che oggi vi farò vedere come ho buildato il mio cloud e quale può essere il miglior setup secondo il mio avviso partiamo col vedere ovviamente cloud nella sua forma base no quindi nella sua nella sua modalità originale ovviamente lasciate perdere le armi perché in questo caso ovviamente viene ho ripristinato praticamente il setup da zero quindi mi ha messo praticamente un'arma random ma come potete notare già dalle statistiche anche togliendo l'arma perché vi assicuro che togliendo l'arma in questione non cambia nulla cloud potete notare essere un po più predominante verso l'attacco fisico questo cosa ci fa capire ci fa capire appunto che la build fisica per cloud è sicuramente quella più adatta ovviamente la cosa bella di questo gioco è che i personaggi possono essere buildati in diverso modo anche cloud può essere buildato come attaccante magico così come anche una eris può essere buildata come attaccante magica però come ho già spiegato in live come ho già detto diverse volte i personaggi in base alle loro statistiche di base sono più portati verso un ruolo rispetto che un altro ed è questa la cosa fondamentale su cui noi dobbiamo basarci quando buildiamo il personaggio quindi quale personaggio e in che ruolo soprattutto il personaggio potrà dare il meglio di sé quindi fatta questa premessa che era doverosa perché ovviamente può arrivare tizio caio sempronio sotto il video ma il mio cloud è magico fa 777 mila cappa di danni si potrebbe anche essere se buildato nella maniera corretta però ovviamente dobbiamo capire quale ruolo almeno secondo me in generale e secondo le sue statistiche calza più a pennello per cloud l'esempio che ho fatto in live è stato se una persona è portata a giocare a calcio è inutile che va a fare danza perché ovviamente non renderà nello stesso modo in cui possa rendere giocando a calcio dato che è una cosa su cui magari è predisposto meglio ok quindi era questo fondamentalmente il discorso quindi i personaggi sono predisposti ad una classe sono predisposti ad un ruolo ed è quindi giusto da parte nostra come giocatori a secondare questi ruoli partiamo però con le basi partiamo con le basi perché ovviamente se vi ricordate bene il nostro personaggio va equipaggiato con un setup principale e successivamente un setup secondario per quanto riguarda il setup principale ovviamente ipotizzando di buildare un cloud come dps fisico per chi ha la skin presa ovviamente tramite il banner della murasame ovviamente va messa in quanto abbiamo un boost di attacco fisico e living blade arcanum che è un buff unico che aumenta in questo caso i poteri di danno tuono quindi assolutamente equipaggiata la skin come arma principale ovviamente la scelta sta nel capire se vogliamo utilizzare cloud come dps magico o come dps fisico la mia idea è il mio suggerimento è dps fisico ovviamente perché secondo me cloud come dps fisico rende sicuramente meglio anche se la build viene principalmente imposta dall'arma principale perché perché l'arma principale ci consente di sbloccare gli slot delle refined abilities o per meglio dire delle sub abilities ovvero quelle che si sbloccano qui e come potete vedere tutte queste abilità o comunque questi potenziamenti vanno di pari passo con l'arma principale quindi in base alla nostra arma principale avremo la nostra build per il personaggio ora in questo caso utilizzando quest'arma come potete notare abbiamo praticamente il boost di attacco magico fisico perché questo appunto rappresenta la refined ability di attacco magico fisico che in questo caso ci permette di aumentare il danno dell'abilità imposta in questo slot del 10 per cento sia che essa sia fisica sia che essa sia magica quindi abbiamo una sorta di ambivalenza però equipaggiando un'arma diversa in questo caso la nostra murasame che sarà la nostra arma principale che ci permetterà di utilizzare cloud come dps fisico se notate le nostre sub abilities sono totalmente diverse in quanto abbiamo boost di attacco fisico quindi le abilità che ovviamente sfruttano attacchi fisici infliggono il 20 per cento in più di danno e questa cosa ovviamente è disponibile anche con un'arma magica ad esempio quindi se noi abbiamo un'arma magica e scendiamo notate come cloud praticamente si trasforma in un attaccante magico perché qui abbiamo praticamente il boost di attacco magico fisico qui abbiamo ovviamente non sbloccato perché dobbiamo portare l'arma al 50 di attacco magico e qui abbiamo ancora il boost di attacco magico quindi vi ricordo che la build si struttura principalmente con appunto l'arma principale quindi con la main weapon in questo caso noi mettiamo la murasame per avere un personaggio dps fisico e sbloccare ovviamente tutti i vari potenziamenti potenziamenti che includono anche in alcuni casi i potenziamenti per i break di sigillo i break di sigillo sono molto importanti ci sono diverse armi che possiedono questi boost se li avete ovviamente avrete un vantaggio molto molto evidente contro quei personaggi che appunto devono essere breakati secondo il sigillo riportato perché come potete vedere praticamente ogni colpo che noi infliggiamo con un sigillo che corrisponde allo stesso simbolo abbiamo un aumento di più 2 quindi se noi siamo in modalità offensiva dove togliamo più 3 di base più 2 considerato anche qui sono cinque punti di break ogni attacco e vi posso assicurare che fanno veramente la differenza ma tornando alla build ovviamente abbiamo attacco fisico quindi in questo caso dobbiamo prevaricare e dobbiamo aggiungere tutto ciò che il nostro attacco fisico può sopportare in questo caso per chi la possiede come arma secondaria io consiglio vivamente l'hard edge consiglio vivamente l'hard edge anche se le sue refined abilities non sono propriamente indicate per una build fisica in quanto abbiamo un boost di attacco magico fisico è una resistenza al vento che al momento non ci aiuta più di tanto l'hard edge ci aiuta molto per la sua core ability core ability che per l'appunto si sblocca essendo l'arma secondaria dove appunto abbiamo un 370 per cento di danno fisico non elementale che però abbassa la difesa fisica abbassa la difesa fisica di un bel po e se non sapete che cosa vuol dire abbassare la difesa fisica di un bel po vi lascio praticamente qui sopra nelle schede anche il video su come funzionano i buff e debuff all'interno del gioco quindi in questo caso mettiamo un hard edge che non busta esattamente le statistiche che a noi ci interessano però ci consente di infliggere un debuff di difesa fisica che noi possiamo sfruttare ovviamente per fare più danno e come potete notare le nostre refined abilities iniziano un pochettino a buildarsi iniziano un pochettino a costruirsi successivamente bisognerebbe passare alla scelta delle materia scelta delle materia che ovviamente deve essere calibrata di vari passo al boost che abbiamo praticamente con la materia collegata quindi con la sub in questo caso con la substats o per meglio dire con la sub ability in questo caso giustamente cloud essendo comunque un dps fisico privilegia tutte quelle materia di colore giallo perché le materie di colore giallo indicano un attacco fisico per cui cloud attiverà il suo bonus in questo caso ovviamente potrete scegliere tutto quello che vi aggrada solitamente grazie al fattore ovviamente di sigil boost che abbiamo praticamente alla fine i primi due slot possiamo equipaggiarli con degli attacchi blow quindi che praticamente consentono l'attacco fisico di elementi diversi potreste utilizzare ovviamente thunder blow ma non ve lo consiglio in quando in quanto cloud possiede già l'attacco thunder strike che si viene a sbloccare tramite appunto la sua arma principale che gli consente di fare danni elettrici quindi tecnicamente se voleste un cloud completo potreste utilizzare i filtri e mettere magari magie di fuoco o magie di ghiaccio e utilizzare praticamente quelli che possono essere in questo caso un blizzara blow che appunto potete inserire per attivare il boost di sinergia magico e quindi fare danni anche elementali di tipo ghiaccio e qui per esempio potreste spostarvi verso un fira blow e quindi di conseguenza avere sia danni ghiaccio sia danni fuoco e anche danni elettrici quindi avere praticamente un cloud che sfrutta sì l'attacco fisico ma al tempo stesso può sfruttare le debolezze elementali dei vostri avversari l'ultimo slot ovviamente se giocate in solo e quindi state buildando un cloud per le coop potreste mettere una cura dato che comunque i curatori al momento in gioco sono molto rari da trovare quindi potreste mettere una cura per evitare magari di finire ko o comunque nel momento in cui entrate in una lobby e siete tutti dps effettivamente qualcuno deve pur curare o comunque bisogna pur curarsi e quindi qui come terzo slot ovviamente si potrebbe tendere ad una cura anche se in realtà questo ultimo slot in teoria dovremmo utilizzarlo solo ed unicamente per il sigillo triangolare dove ovviamente noi con attacco fisico o magico in questo caso non cambia nulla dobbiamo ovviamente come dire attivare il sigillo del busto triangolare vedete che si illumina proprio perché abbiamo la corrispondenza del sigillo se invece noi mettiamo anche un attacco magico come potete vedere il sigillo rimane attivo ma se dovessimo ovviamente cambiare sigillo e mettere per esempio un sigillo circolare notate che ovviamente il busto non si accende ma essendo questo busto soltanto una comodità per ovviamente breccare più in fretta il consiglio che vi posso dare io e di mettere comunque tutte le rune sigillo che vi servono in base allo stage quindi circolare a x a triangolo o tutto quello che vi serve mettete praticamente il sigillo in questo slot perché tanto non perderete nessuna statistica quindi in questo caso come potete notare noi non perdiamo aumento di appacco fisico come per esempio potremmo perderlo qui che poi questo comunque è il danno dell'abilità fisica è aumentato qui non perdiamo nulla quindi di conseguenza utilizzate e utilizzata appunto le materia di sigillo nell'ultimo slot oppure se ovviamente siete costretti in un modo o nell'altro di curarvi perché siete da soli mettete come ultimo slot le cure e poi i sigilli li mettete praticamente qua se sono diversi da quello triangolare ovviamente la cosa brutta potrebbe essere il fatto che se dovete utilizzare un sigillo diverso da quello triangolare e doveste in un qualche modo cambiare questi slot perdereste l'abilità fisica perdereste il danno d'abilità fisica e quindi è vero che se mettete un blow con sigillo qui potete tranquillamente attivare il boost però bisogna fare attenzione un po come gestite le materie perché dipende la situazione potreste perdere questo boost e questo busto comunque nelle abilità vi assicuro essere molto molto importante una volta che avrete deciso ovviamente come gestire le vostre materie in base alla situazione creata si passa alle sub weapon per quanto riguarda le sub weapon ovviamente il discorso è diciamo complesso da un lato è semplice dall'altro perché quando si va a guardare le sub weapon bisogna guardare due cose fondamentali le refined abilities ovvero cercare di potenziare quelle refined abilities per far superare il totale di punteggio e quindi passare al livello successivo dato che comunque qui le build se non sapete come funzionano vi rimando comunque al video anche che ho fatto già delle build quindi preferirei andare un po più avanti un po più spedito qui bisogna comunque considerare i livelli delle nostre refined abilities ma soprattutto il livello delle nostre statistiche quindi cercare di capire un po come il nostro personaggio stia arrivando bene o male alla conclusione della build come hp siamo già sopra i 3000 che vanno comunque bene anche se in realtà consiglio di arrivare con i personaggi più o meno a 3500 per essere sicuri quindi avere comunque un ammontare di hp decente e poi ovviamente privilegiare la statistica principale quindi attacco fisico quindi avere un cloud qui che riesce ad avere un alto attacco fisico è sicuramente un cloud molto molto forte quindi per quanto riguarda le abilità come siamo combinati abbiamo l'attacco fisico a livello 35 per meglio dire livello 5 scusatemi e al livello 5 con niente praticamente mi è seccata la bocca è praticamente con un livello 5 e 35 punti che servono per arrivare questo livello al livello successivo ci si arriva con 45 punti quindi mi servono praticamente 10 punti come facciamo a vedere questi punti nelle nostre sub weapon è molto semplice clicchiamo nel menu delle sub weapon andiamo su filtri anzi no scusatemi non tanto su filtri ma su refined abilities che è proprio il menu specifico e andiamo ovviamente a selezionare la statistica che ci interessa e nel momento in cui avremo selezionato la statistica che ci interessa come ad esempio in questo caso physical attack mettiamo ovviamente in ordine discendente e come potete vedere abbiamo praticamente le armi con i boost migliori ma ma i filtri qui sono molto meglio perché se andate su filtri come potete vedere refined abilities cliccate in questa sezione e selezionate soltanto quelli che vi interessano in questo caso per me potrebbero essere boost di hp boost di attacco fisico e boost di potenza elementale di tipo tuono quindi selezioniamo clicchiamo su filter e come potete vedere abbiamo tutte le armi che praticamente ci consentono di aumentare gli hp l'attacco fisico o l'attacco elementale tuono ovviamente con le nuove armi abbiamo sia una sia due che aumentano di gran numero il busto di hp ma fate attenzione perché quando utilizzate queste armi come sub weapon il valore di punteggio che vedete scritto qui vale la metà e tra l'altro vale la metà arrotondata se non mi ricordo male per difetto addirittura quindi se noi qui vediamo 21 punti in realtà sono 10 non sono 10,5 o 11 ma sono 10 infatti se noi selezioniamo l'arma e andiamo a guardare le nostre refiner abilities notiamo come il busto di hp raggiunga i 10 punti in questo caso mentre invece se noi non utilizziamo nulla abbiamo il nostro boost di hp che è praticamente assente perché appunto non vengono potenziati gli hp in questo caso un busto di hp di livello 10 potrebbe essere buono perché ci porta praticamente a due quindi ci aumenta 50 hp più il 15 per cento del totale portandoci con hp totali a 3524 che sono comunque una cifra di tutto rispetto e considerate anche che le stats di quest'arma quindi physical attack magic attack heal eccetera eccetera verranno attribuite al nostro personaggio però soltanto al 50 per cento quindi abbiamo praticamente aggiunto al nostro attacco fisico 121 e al nostro attacco magico abbiamo aggiunto 122 in questo caso vedete e quindi le statistiche aumentano anche e questa è una cosa molto buona una volta raggiunti 3500 hp a mio avviso si può tranquillamente passare all'attacco fisico quindi utilizzare una che a mio avviso è una delle migliori armi per il busto di attacco fisico ovvero i motor drive di tifa che solo a livello 40 quindi cosa molto importante potenziate tutte le armi almeno al livello 40 il consiglio che vi posso dare io è potenziare l'arma principale al 60 più l'arma secondaria al 50 più tutte le armi che utilizzate come sub weapon almeno al 40 perché portate al 40 sbloccano il secondo power up dell'abilità principale quindi questa all'inizio aveva 10 come attacco fisico una volta che l'abbiamo portata al 40 è arrivato a 20 quindi mi busta praticamente 10 punti di attacco fisico e bustandomi 10 punti di attacco fisico come potete notare mi fa scattare il busto di attacco fisico a livello 6 quindi in questo caso ora il mio cloud già arriva a 1747 e come potete notare appunto i prossimi level up sarebbero al livello 55 sarebbe il livello 7 che è quello massimo quindi altri 10 punti in teoria che noi potremmo raggiungere potremmo raggiungere grazie no la falchion non ci arrivo no mi sa che non posso raggiungerli al momento perché con 14 arrivo a 52 no purtroppo non ci arrivo perché giustamente questa vale 7 quindi no al momento non ci arrivo quindi quando vedete che tramite appunto un'arma non riuscite a superare il diciamo la cifra di punteggio per passare al livello successivo concentratevi su un'altra statistica ovviamente proprio per migliorare il più possibile il vostro personaggio in questo caso il mio busto di lightning damage quindi il mio busto di potenza elettrica e a 15 punti dovrei arrivare a 25 per il prossimo sono a 18 per il momento quindi in realtà io come busto elettrico credo di non avere un granché perché le armi che ho come busto elettrico sono praticamente nulle se proprio non ne ho addirittura allora andiamo su filtri vediamo un secondo che perché addirittura non ne ho a quanto pare a no c'ho soltanto la murasame quindi non possiamo aumentare il busto da danno elettrico andiamo a vedere cosa possiamo migliorare magari tramite queste diciamo tramite queste statistiche forse quella migliore sarebbe gli hp perché comunque gli hp come potete notare il prossimo busto mi arriva tra dieci punti quindi avere un'altra arma che mi aumenta il busto di hp mi permette in questo caso di essere più più forte potrebbe aumentare il busto di attacco fisico magico ma questo in realtà dipende molto da voi io personalmente metto al primo posto gli hp perché secondo me gli hp ovviamente sono un fattore predominante per la sopravvivenza del personaggio e anche il gioco comunque sia premia gli hp come statistica migliore in generale da portare quindi ovviamente poi tutti siete liberi di gestirvela come volete io in questo caso metto un altro busto di hp ovviamente se siete da soli mettete l'arma con il più alto numero di hp possibile altrimenti cercate di bilanciare perché ricordatevi che dovrete buildare tre personaggi alla volta in un team completo se siete in solo per le coop date il meglio del meglio perché ovviamente dovete dare il meglio del meglio ma se avete tre personaggi cercate un attimo di distribuire bene le vostre risorse in questo caso metto anche l'arma di zac dato che sono in solo e magari sto buildando un cloud per una coop e come potete notare adesso abbiamo un power addirittura di 41.831 in totale con 4.000 pass hp 1924 come danno fisico essere veramente alto non ho visto in realtà altri cloud superiori anche al 2000 forse come attacco fisico se non con una refined a livelli incredibili quindi abbiamo comunque un cloud di tutto rispetto cosa che ovviamente dovete collegare a tutto questo processo di build e il processo di crescita il processo di crescita ovvero il processo di growth per i vostri personaggi deve necessariamente andare di pari passo quindi quando arrivate a livello 30 iniziate a potenziarmi al 35 fate la stessa cosa al 40 fate la stessa cosa al 45 fate la stessa cosa perché ovviamente quelle sono tutte statistiche che si vanno ad aggiungere e che permettono al vostro personaggio di essere sempre più forte quindi cercate ovviamente di sfruttare appieno questa situazione detto ciò possiamo praticamente tornare indietro e vedere il nostro risultato finale risultato finale abbiamo praticamente un cloud che in questo momento è forte contro i sigilia x dato che abbiamo dato la materia ovviamente di sigilia x e poi i nostri danni elementali sono praticamente tuono ghiaccio e fuoco che potrebbe essere una build interessante da portare magari in un dungeon o da qualche parte dove abbiamo più nemici con debolezze elementali diverse però ovviamente in base alla quest e in base alla missione vi ricordo sempre di controllare debolezze e resistenze dei vostri avversari per buildare poi il personaggio nel miglior modo possibile per avere un rapido check ovviamente anche del vostro personaggio utilizzate il tasto toggle perché il tasto toggle come potete vedere vi dà la possibilità di guardare un pochettino la panoramica del vostro personaggio e se vi premete il tasto toggle vi fa vedere anche come siete combinati praticamente nella build principale quindi nelle stats principali e farvi bene o male un calcolo anche con gli altri giocatori che magari vi guarderanno le statistiche per capire che tipo di build possedete vi permetterà comunque di avere un quadro completo della situazione detto ciò spero che il video possa esservi stato utile questo è il mio setup consigliato per il personaggio di cloud quindi prevalentemente attaccante fisico con sfaccettature o comunque sfumature elementali in base alla situazione e boost per quanto riguarda il break dei sigilli detto questo noi ci vediamo con un prossimo appuntamento spero che il video possa esservi stato utile e spero che possa essere interessante e noi ci becchiamo alla prossima con un prossimo personaggio bye bye